Si chiama Informa Giovani, ma di fatto lo sportello informativo del comune di Pietrasanta è aperto a tutti, dal ragazzo in cerca del primo impiego al disoccupato over 60 che deve arrivare alla pensione. L'informa Giovani conta 8.000 utenti all'anno agli sportelli, a cui vanno aggiunti contatti telefonici e email. In particolare circa l'80% della nostra utenza viene al nostro servizio per il lavoro e per quanto riguarda il settore del lavoro i servizi che offriamo vanno dalla redazione del curriculum vite in formato europeo e non fino alla assistenza personalizzata nella creazione di una casella di posta elettronica utile per motivi di lavoro, la candidatura online per supermercati o altri tipi di aziende, fino alla ricerca personalizzata e alla creazione di indirizzari ad hoc per chi cerchi lavoro in uno specifico settore. Sono 193 le aziende che nel 2016 si sono rivolte all'informa Giovani per la ricerca di personale. Lo sportello, che si trova al centro dell'Osterietta, è aperto dal lunedì al sabato con orario 10.13. Altri settori in cui offriamo informazioni sono la formazione professionale con tutti i corsi di formazione di qualifica e non, corsi nel tempo libero, quindi lingue e informatica e tutto ciò che riguarda comunque il miglioramento del proprio profilo professionale, fino all'orientamento universitario e alle prime informazioni per chi sia interessato a ottenere un finanziamento per l'avvio di un'impresa in proprio.